Leica Ecovip 390, meccanica Fiat 140 Euro 6D, cerchi in lega di 16. Questo è un camper, un classico del camper, cioè matrimoniale in coda di traverso e letto basculante. E questo, con questo bel letto, ha questo grande garage. Questo grande garage, guardate l'altezza, la larghezza, e questo è il blocco dell'armadio, che vi farò vedere all'interno, che all'occorrenza si può anche levare, quindi a rendere ancora più grande il garage. Guardate questo bel piano con l'appoggio per le motociclette, i ganci per le motociclette, la plastica e lo scarico a terra, proprio per rendere pratico e funzionale questo bel contenitore. E ora andiamo, gli sportelli sono sia destro che sinistro, quello destro più grande, quello sinistro più piccolo. E ora andiamo all'interno. L'interno è un camper, come vedete, veramente, sono un po' innamorato anche di questo camper, perché è un camper che ha varie modalità di utilizzo. Allora, questa ha una bella zona giorno, col tavolo che si muove, e quindi molto ricreativa. La parte, un bel letto basculante sopra, che è un bel matrimoniale, e poi cosa c'ha di bello? Questo fatto della doppia porta della doccia, del bagno. Cioè la parte, questa parte qui, si separa dalla parte anteriore, si separa tramite questa porta alla parte posteriore, e quindi si può accedere al bagno senza disturbare colui che sono a letto. Ad esempio, due persone dormono di qua, due di là, il bagno è chiuso. Guardate, questo è il bagno, è la porta del bagno, quando quest'altra porta è chiusa, e quindi si può andare in bagno senza disturbare la persona. Oppure, chi sta qui, poi si alza la mattina, l'altro dorme, e fa colazione, va in bagno senza disturbare assolutamente colui che dorme. E quindi, poi questo camp è poco usato dalle due persone, la preferenza sono i due singoli. Però, dormire uno di dietro, e uno davanti al letto basculante, avendo le due porte di ingresso dell'area lavello e doccia e water, è molto comodo, e proprio rende libertà assoluta di abitabilità. Qui c'è l'armadio. Il bello di questo letto è che ha questa pedana da appoggio, guardate come faccio presto ad andare a letto, quindi estremamente semplice, grande, un bel letto grande, e anche nello stesso tempo, come si scende facilmente. E da quattro parte, la doccia. La doccia, che ha uno scarico eccezionale, molto pronunciato, per cui, in qualsiasi situazione, si può, si scarica senza problemi, cioè il camper può stare in qualsiasi inclinazione, esso sia scarica bene. E poi, guardate di qua, guardate il bagno, ora chiudo l'altra porta, e vi faccio vedere l'abitabilità, guardate, il bagno tranquillamente si sta seduti, tranquillamente ci si lava, qui c'è un altro armadietto, è comodo, e poi può servire da spogliatoio, qui si chiude, ci si cambia il costume, senza dover chiudere l'oscurante davanti. Quindi un camper, veramente 6,99, molto compatto, quattro posti comodi, con due matrimoniali. Quindi, due persone, o quattro persone comode. Venite da scoprire, da Caravambacci. Ciao! Ciao!